Grazie di essere venuti, oggi quello che parleremo è di fuzzing, vi spiegherò a breve che cos'è e perché in realtà ci sono tanti miti su questa cosa qui. Chi sono in realtà? Sti cazzi, non è importante, faccio robe di sicurezza, mi interesso, faccio penetration test per mangiare e questo è più o meno quanto. Che cosa vi farò vedere oggi? Oggi vi parlerò di cosa si intende per fuzzing, che cos'è un fuzzer e vi farò vedere alcune teorie e una cosa a cui io tengo tantissimo che è theory versus practice, quindi quello che si pensa che sia e quello che in realtà se provate a farlo scoprirete. Vi faccio vedere un paio di fuzzer che ci sono interessanti e perché, a mio modo di vedere, ma non solo, il fuzzer giusto è quello che vi scrivete da voi. Vi faccio poi vedere come prendere un sacco di software che potete crashare out of the box. A che cosa serve fuzzing? Beh, se voi dite che fate fuzzing già siete nell'elite degli hacker perché, oddio, state facendo fuzzing. Wow, potete tranquillamente andare su Twitter, fare i fighi e molto probabilmente riceverete una valanga di like. Che cosa si intende per fuzzing? Allora, queste sono le definizioni che trovate su Wikipedia e su un altro sito che, basta che cercate descrizione fuzzing, lo trovate, uno degli primi risultati. È molto bellino perché cerca di spiegare, la seconda spiegazione è carina, perché dice, è una tecnica di exploiting relativa all'invio di caratteri random come input alla richiesta di un applicativo. No. Allora, che cosa si intende per fuzzing? In realtà possiamo sintetizzare il fuzzing come mandare, creare, qualche cosa che metta il nostro target in una situazione inaspettata. Ok? Non è detto che sia per forza qualcosa di random e non è detto neanche che sia un semplice input a creare questa condizione. Potete, possiamo diciamo, dividere i fuzzer in due grandi categorie. Quelli software che vedete a sinistra e quelli hardware che vedete a destra. Oggi parleremo solo della parte software perché la parte hardware è tutto un mondo a sé. Per chi di voi ha Twitter vi consiglio di seguire questa persona qua che si occupa in realtà solo ed esclusivamente di hardware security, fa anche dei corsi e è una persona che ha veramente il pelo sullo stomaco. Non è la mia... come si chiama? Il mio campo per cui restiamo sulla parte software. In realtà, purtroppo, vi faccio vedere uno screenshot, in realtà l'animazione era abbastanza semplice. Chi di voi si ricorda il crash, o meglio, l'exploit su macOS nella versione 10, 12, qualche cosa, bastava premere alcune volte invio su una maschera che vi chiedeva la password di root e voi effettivamente diventavate root, se non avevate settato una password sul sistema. Scherzosamente una persona su Twitter aveva preparato questo picchio che andava avanti e indietro sulla tastiera e dice questo è il mio fuzzer per macOS. Effettivamente così riusciva a diventare root. Quando si parla di fuzzer, in realtà, fuzzer software, in realtà tanti sono già pronti. Non serve che vi inventiate l'acqua calda. Ve ne ho portati qui quattro esempi. Quello che vedete più a sinistra è Sully, è uno dei più famosi, se voi cercate anche dei libri su fuzzing lo vedrete sicuramente citato. È un fuzzer in Python che ha alcune particolari età molto belle. Purtroppo non è più mantenuto. Una persona ha quindi deciso di portare avanti, di fare un fork di questo progetto e di creare BoFuzz. Chi di voi non guarda cartoni animati, sia Sully che Boo sono due personaggi di Monsters & Co. e Boo, questa bambina, è l'unica che in realtà riesce a spaventare questo mostro. Il terzo è Pitchfuzzer. Pitchfuzzer è un fuzzer commerciale, mentre BooFuzz e Sully sono open source. È commerciale e non vi so dire di più, nel senso che prima di contattare l'azienda ho provato a cercare un pochino in giro quanto costava e per le informazioni frammentarie che ho trovato si parla dai 30k in su all'anno di licenza, per cui mi sono fermato e ho detto ma sai che c'è sti cazzi. L'ultimo che vi cito è American Fuzzy Lope, che è un fuzzer molto conosciuto, ha trovato, penso, una cinquantina di vulnerabilità in diversi software, scusate, vulnerabilità in una cinquantina di diversi software e è sicuramente uno strumento da cui prendere spunto, da guardare, ma anche da imparare ad utilizzare. Quando si parla di fuzzer software possiamo andare a suddividere il fuzzer in vari componenti, lasciando perdere la parte di core che se volete è quella che vi fa funzionare il tutto, a prescindere da come sia scritto il fuzzer, la parte che a noi in realtà interessa è come preparo quello che voglio sottomettere al mio target e come questo qualche cosa viene poi utilizzato dal fuzzer per creare qualche cosa di inaspettato. Quindi una regola che mi descrive ad esempio un protocollo e come all'interno di questa descrizione vari campi verranno inizializzati con valori che decide il fuzzer. È molto bello crashare il software ma è assolutamente inutile crasharlo se non sappiamo come abbiamo fatto a romperlo. I fuzzer normalmente cercano di fare il prima possibile a darmi un risultato per cui provano migliaia di interazioni al secondo per cui se voi lo lasciate girare magari un paio di giorni poi andate a ricontrollare il fuzzer trovate che ha provato 175.000 interazioni diverse il vostro software è crashato ma non sapete quale delle 175.000 è effettivamente stata causa del crash. Potete provare la mano, potete rilanciarlo e stare a guardare, magari alla penultima vi perdete un giorno e mezzo di vita a guardarlo. Per cui normalmente i fuzzer vi permettono anche di monitorare che cosa sta succedendo e di capire chi ha creato cosa. Avete anche un'interfaccia, qualcuno vi permette di avere un'interfaccia web qualcun altro è un pochino più grezzo e vi permette di utilizzare un'interfaccia command line dipende, non è che sia niente di particolare. L'importante è che vi dia le informazioni di cui avete bisogno. Diciamo che la parte più importante secondo me, a mio avviso, di un fuzzer che bisogna veramente cercare di capire oltre a come funziona è come posso descrivere l'interazione con il mio target e come all'interno di questa descrizione di questo schema se volete il fuzzer andrà a inizializzare i vari campi e a provare le varie interazioni. Quello che vi porto è un esempio di descrizione di un protocollo con BooFuzz. Vi chiedo scusa per il fatto di aver dovuto fare il blur di alcune parti ma questo è un progetto che sto portando avanti su un software di cui vi accennerò alcuni dettagli che al momento non posso di cui non posso fare disclosure l'idea comunque che avete è abbastanza che potete capire è abbastanza semplice ci sono dei campi che sono definiti come static quindi il fuzzer li prenderà così come sono ci sono dei campi delimitatori ci sono dei campi ad esempio sstring la prima iterazione il fuzzer manderà quello che avete messo dentro dalla seconda iterazione in poi BooFuzz inizierà a generare dell'input e a vedere come si comporta inserirà dei numeri inserirà delle lettere inserirà dei come si dice degli input molto molto lunghi degli input con caratteri molto particolari e in tutto questo continua a monitorare che cosa succede dall'altra parte cioè se riceve una risposta in questo caso qui sono state definiti due richieste tramite un protocollo di rete questo è un protocollo applicativo descritto basato su http e non faccio altro che andare a definire i vari campi del leder e del payload e vado a sottometterli quello che BooFuzz fa è prendere appunto questo schema e andare a generare dell'input la parte diciamo che manca da transmitting 111 bytes alla parte di authorization che vedete sotto è la parte di payload generata da BooFuzz e inviata BooFuzz come vi anticipavo va anche a monitorare quella che ha la risposta lui manda un input si attende una risposta formatata in una certa maniera dice la risposta è corretta perfetto il target è ancora su vado con la prossima interazione se il target non risponde voi potete decidere come operare fermate il fuzzer ristartate il target provate a continuamente a sottomettere perché magari è solo una questione di time out e avete dei problemi di rete ci sono varie reazioni che voi potete scegliere come vi dicevo questo è più o meno come funziona un fuzzer nella teoria vi anticipavo voi create dell'input e lo sottomettete nella teoria nella pratica se voi andate a vedere il 95% degli esempi che ci sono in rete di come si utilizza come si fa scusate fuzzing la risposta che trovate è questa allora questo è un esempio se volete un pochino tirato per i capelli di che cosa può essere fuzzing in questo caso qui è chiaramente un esempio ma vi fa capire di che cosa stiamo parlando tante volte si parla di fuzzing come butto roba a cazzo e spero che qualche cosa crashi avete fortuna ogni tanto funziona effettivamente funziona bene ad esempio come vi anticipava Coba prima ci ha dei problemi se non viene scritto in maniera corretta può essere che voi provando decine di migliaia di input prima o dopo andate a avere dei problemi di gestione della memoria l'applicazione crescia e voi se effettivamente mandando roba a cazzo siete fortunati e ottenete effettivamente un crash nella teoria per essere un hacker ah ok prendo python gli faccio generare un payload lungo lo mando e dai che qualche cosa crasherà fatto questo mi scrivo l'exploit e divento famoso ah no non funziona così prima cosa quando si parla di fuzzing se voi prendete un fuzzer come può essere bufuzze american fuzzilop quello che volete normalmente avete delle opzioni di default esempio come genera dell'input questo è evoluto perché è evoluto avere una opzione di default che funzioni perché così voi iniziate ad utilizzare quelle opzioni di default e capite se il tutto sta in piedi e poi in teoria dovreste cominciare a fare tutte le vostre customizzazioni nella realtà questo viene fatto molto poco per cui si prende il fuzzer lo si lancia così com'è è crashato sono un hacker non è crashato il software non è vulnerabile l'altra l'altra problematica è il comportamento standard del 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 fuzzer il fuzzer come vedremo anche dopo è ha un comportamento predecibile perché perché se voi lanciate due volte il fuzzer mettete che vi lanciate il fuzzer e trovate un crash lo rilanciate e volete avere esattamente le stesse iterazioni per avere di nuovo il crash e verificarlo e poter fare tutto il vostro tuning e la vostra analisi cosa vuol dire questo che se io lancio il fuzzer ottengo una con le opzioni di default ottengo delle interazioni se lui lancia il fuzzer con le stesse opzioni otterrà esattamente le stesse interazioni ci sono poi delle precondizioni per raggiungere delle parti di codice esempio immaginiamo che noi vogliamo interagire con un servizio web questo servizio web è autenticato se io mando roba a caso è molto probabile che io stia provando solo la prima iterazione ossia verosimilmente l'autenticazione ma io non sto provando che cosa c'è dopo l'autenticazione per cui può essere che per raggiungere delle parti di codice e quindi avere un code coverage ampio io debba rispettare delle condizioni e debba rispettare quello che viene chiamato la finite state machine quindi l'insieme dei vari stati in cui il software si deve trovare per raggiungere quel determinato punto di codice questa cosa qui funziona anche con i protocolli voi potete fazzare un software ma in realtà potete fazzare anche un protocollo se voi trovate un problema in un software lo segnalate il software viene verosimilmente e si spera peccato e tutto torna come prima se voi trovate un problema nella descrizione da stati infiniti di un protocollo sono cazzi perché tutte le implementazioni di quel protocollo dovranno essere riadattate e quel protocollo dovrà essere esteso e corretto questa cosa qui ha un impatto enorme perché ci saranno diverse implementazioni di questo protocollo se volete avere qualche cosa che abbia una persistenza molto lunga perché magari vi vendete gli zero day andare a lavorare sui protocolli è molto più dispendioso in termini di tempo ma vi può dare molta più durata di quello che voi andate a produrre e quindi verosimilmente il prezzo che vi verrà pagato sarà molto più alto l'altra cosa è che tipicamente purtroppo chi si cura di sicurezza informatica la prima cosa che fa è pigliare per il culo gli sviluppatori ci può stare alcune volte dalle altre volte altre volte gli sviluppatori ne sanno tanto di più di noi perché perché semplicemente noi abbiamo interazioni con 250 milioni di differenti tecnologie lo sviluppatore solitamente ne usa un pochino di meno e diventa molto più verticale per cui magari i framework li conosce molto meglio di noi quel linguaggio di programmazione lo conosce molto meglio di noi quindi è molto più bravo di noi quindi calma un attimo cerchiamo di rimanere rilassati anzi molte volte potete sfruttare gli sviluppatori e farvi insegnare qualche cosa che magari nel penetration test dopo vi può tornare pure utile l'altra cosa è che normalmente gli sviluppatori sono molto bravi ad utilizzare i tool ad esempio creano dei build system che noi ci sogniamo sanno configurarsi le macchine di sviluppo in maniera abbastanza corretta i fuzzer li sanno usare anche loro se li possono prendere anche loro da github se li possono configurare li possono lanciare sicché se noi andiamo ad utilizzare i fuzzer su prodotti inteso sia commerciali che open source conosciuti è verosimile che non troviamo niente perché? perché magari sono già stati utilizzati contro quel target l'altra cosa è che ogni fuzzer ha del vantaggio e degli svantaggi per cui ad esempio ci sono dei American Fuzzy Lop ad esempio è super figo per i programmi locali cioè è in grado di generarvi dell'input simulare l'utente simulare i file che vengono letti mentre ad esempio Bufaz viene utilizzato per il fuzzing sui protocolli di rete potete è probabile non l'ho mai fatto è probabile che possiate utilizzarlo per attaccare qualche cosa di locale quindi generare file e vedere l'interazione del target ma è specializzato sulla parte di rete perché ad esempio Bufaz vi permette di descrivere i protocolli in una maniera super figa un po' rigida ma super figa quindi anche lì scegliere il fuzzer giusto per quello che volete ottenere può essere un'idea prendere un come si dice un fuzzer e lanciarlo contro a un qualche obiettivo a un qualche target funziona bene purtroppo non è sempre detto che voi riusciate a gestire il crash mi spiego prendete un router ok e cominciate a buttarli dentro roba e vedete che a un certo punto quell'input fa crashare effettivamente il web server perfetto ho il crash pronto a scrivere l'exploit no per scrivere un exploit ci vogliono un sacco di altre cose accessorie che magari dopo vedremo e ad esempio magari in un router di casa voi dovete avere accesso in qualche maniera per poter debuggare e capire che cosa sta succedendo prima di scrivere l'exploit non è detto che questo sia sempre una cosa fattibile in mezz'ora può essere che magari quel dispositivo lì sia particolarmente cazzuto o particolarmente poco documentato per cui dovete riversarvi anche tutto il PCB per capire che cosa c'è dentro non trovate delle porte magari la porta JTAG la porta seriale sono disabilitate quindi dovete trovare il modo di interagirci comunque non potete smontarvi la flash perché è saldata in SMD per cui vi sfido a fare il chip off e a risaldarlo da qualche altra parte e interagirci cioè ci sono tutte delle precondizioni può essere che voi stiate fazzando dei sistemi magari per fare bug hunting su delle piattaforme che vi pagano ma non è detto che abbiate accesso a quei sistemi per vedere che cosa sta succedendo quindi magari quel servizio crescia magari dall'altra parte si incazzano pure e voi non avete modo di capire perché sta crashando l'altra cosa è che magari voi avete anche il dispositivo magari riuscite anche pure a farlo crashare ma da lì a capire cosa è successo e a capire come sfruttarlo ah ah ne passa perché? perché i sistemi operativi non sono più quelli di una volta diciamo che se voi volete se partite con la precondizione Windows fa cacare ci scrivo subito l'exploit prego se volete scriverlo per Windows 10 perché è veramente una cosa che una volta funzionava bene adesso molto di meno cioè è molto più difficile ecco quello intendo c'è un bellissimo report che qui vi ho lasciato diciamo solo la copertina iniziale vi invito a leggerlo è una ricerca che è stata fatta sul mercato degli zero day quanto costano quanto costa svilupparli chi lo fa quanto durano eccetera eccetera la parte interessante per noi è che attualmente ci si mette dai 6 ai 37 giorni normalmente per sviluppare un exploit si parla di gente che questa cosa qui la fa per lavoro cioè non è che prende e si sveglia la mattina e dice dai che mi scrivo un exploit metterci 37 giorni uomo per sviluppare un exploit vuol dire che ci mettete più o meno due mesi e mezzo di tempo continuativo perché ovviamente in mezzo avete anche altre cose non è una cosa scontata anzi alcuni hanno richiesto come vedete molto molto di più come vi dicevo il problema basilare è che se noi andiamo a sottomettere sempre le stesse interazioni che sia input che sia serie di interazioni che sia visitare in una certa sequenza degli stati del protocollo del target che andiamo a con cui andiamo ad interagire se mi spiegate dov'è l'un expected input o comunque l'un expected condition non c'è non c'è perché perché è tutta roba predecibile e come lo fanno gli hacker come lo fanno i bug hunter lo fanno gli sviluppatori cosa vi consiglio di fare dal mio punto di vista quello che vi consiglio è partite con un target dite che ne so vi faccio l'esempio su di me a me piace la roba che gira sulla rete quindi come target ho scelto qualche cosa che gira sulla rete meglio sa qualche cosa che ha un grande impatto quindi tendenzialmente che è esposto su internet la roba che ha fatto vedere coba è super figa andate su shodan cercate ad esempio un po' di protocolli vedete quale ha qualche milionata di dispositivi esposti su quel protocollo e decidete che quello è il vostro target dopodiché vi consiglio di cominciare ad analizzare come viene gestito l'input da questi software che implementano ad esempio quel specifico protocollo una volta che l'avete fatto continuate a farlo prendetevi le rfc prendetevi delle demo che ci sono in giro magari di client che interagiscono con il servizio eccetera eccetera e cercate di capirlo una volta che avete capito questo è molto probabile che vi abbiate già una sensazione di che cosa si può fare allora sviluppatevi il vostro fuzzer ossia scrivetevi qualche cosa che vi permette di provare quello che secondo voi potrebbe funzionare secondo me la cosa più interessante da fare cerco un attimo di stringere così recuperiamo un po' di tempo è selezionare il target vi faccio vedere adesso 4 posti dove potete trovare in realtà decine di migliaia di software vulnerabili e utilizzati da decine di milioni di dispositivi sourceford gitlab gitlab vecchio google code che è stato dismesso a noi piace tanto la favola dell'open source del ah se è open source è possibile fare della code review è possibile fare della code review sicuramente qualcuno l'avrà fatta se sicuramente qualcuno l'avrà fatta il codice open source è più sicuro io non ne sono convinto perché perché se io devo attaccare quello che voglio fare è avere il ritorno di investimento esattamente come un'azienda normale da una parte devo prendermi del codice chiuso e andarmelo a reversare dall'altra parte devo fare un git clone di un repository in più avendo tutto il codice sorgente la simbolicazione dei crash il debugging di quello che sta crescendo è molto più comodo ma tanto di più in più se voi andate a avete un po' di pazienza andate a vedervi magari non i più conosciuti magari non partite da open SSL che potrebbe essere un pochino complesso ma da software che vengono integrati all'interno di soluzioni commerciali vedrete che troverete un sacco di repository con dei disclaimer tipo non è mai stato fatto un penetration test su questo software quindi si consiglia di non utilizzarlo in produzione quello che sto facendo io io lo sto facendo su un software che viene integrato in una cosa come 10 milioni di dispositivi c'è questo esatto disclaimer in realtà io l'ho trovato su un subset di questi dispositivi su una versione non l'ultima che è esattamente lo stesso disclaimer l'ultima ce l'ha è ancora lì il disclaimer in realtà perché? perché nessuno ha tempo non viene pagato cioè richiede un sacco di sforzo a fare una code review di un software che è complesso magari c'è qualcuno che si mette lì e che ha la buona volontà ma dare questo per scontato è molto pericoloso purtroppo chi sviluppa soluzioni commerciali tante volte ha bisogno di avere appunto il time to market deve uscire deve mettere qualcosa fuori per i clienti quindi il software open source fa benissimo perché è gratuito cioè viene associato open source gratuito lo prendo lo copio lo butto dentro i miei dispositivi tanto più o meno sarà sicuro e lo metto sul mercato questo non è vero è una precondizione sbagliata e comporta in realtà che ci siano decine di migliaia di software peggio che peggio le librerie quando compilate e vi dice ah devi installare queste 10 librerie vabbè sì boom le mettiamo dentro anche quelle lì vi invito a spenderci del tempo a provare a farci della code review senza manco fazzarle cominciate a farle la code review se poi non crash provate a cominciare a fazzarle ma già cominciando a farla a code review vedrete che trovate un sacco di cose interessanti questo è quanto spero di non avermi annoiato troppo se avete qualsiasi domanda magari vi aspetto fuori così c'è la prossima persona che siamo 5 minuti di ritardo dai 2 minuti di domande salve io vorrei intanto un briciolo pulire la terminologia cioè non esiste software commerciale software open source esiste software proprietario e software libero e non è vero che il software open source sia gratuito e tanti progetti di grandi dimensioni sono retribuiti fatti da persone retribuite al pari degli altri assolutamente assolutamente mi scuso per essere stato un po' grezzo nell'ultima parte quello che dicevo quello che ho detto è proprio viene associato l'open source al gratuito e è sbagliato ha assolutamente ragione tra l'altro il time to market ce l'hanno sia i software open source che i software proprietari con la differenza che in open source il disclaimer lo leggi negli altri no ma il disclaimer ci può essere anche in tutti quegli altri e non lo sapremo mai e infatti assolutamente assolutamente questo nella pratica impatta quello che di cui stavo parlando in realtà purtroppo no è una cosa che mi dispiace che a me dispiace un sacco perché in realtà ci sono un sacco di progetti super belli che le aziende aziende che fatturano milionate potrebbero sostenere con pochissimo e non lo fanno e ci fanno i milioni su quello che è l'impegno di persone che magari si sono messe lì hanno scritto un software super figo ma che voglio dire anche loro hanno risorse finite e non hanno molto modo di sembrava in alcune parti che nel tuo talk facessi la glorificazione della security by obscurity no assolutamente 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 no anzi mi dispiace che sia passato questo concetto quello che volevo dire è un'altra cosa cioè se la security by obscurity non funziona e è un dato di fatto il fatto che sia open source non mi garantisce che questa cosa sia sicura perché purtroppo e questo a me è stato detto tante volte prima di cominciare a metterci in naso mi è sempre o quasi sempre stato passato il concetto è open source posso leggere il codice pertanto qualcuno sicuramente l'ha letto e l'ha verificato pertanto è più sicuro questa è secondo me una precondizione sbagliatissima quando viene infatti dico non è vero è un peccato perché secondo me è una cosa che passa e dirò di più cioè trovo della resistenza tante volte da progetti open source che magari si sentono quasi attaccati da questa cosa non è un attacco è solo una constatazione tutto qui anche perché poi sappiamo meglio lo sa meglio di me che il software open source un problema che ha è la frammentazione ci sono 50 progetti che fanno la stessa cosa per cui le risorse per ogni progetto ovviamente sono di meno e non si riesce a fare anche code review si ma è bello quando ci sono più modi di fare le cose assolutamente assolutamente dico solo che il rovescio della medaglia è la frammentazione quindi poche risorse per verificare software diversi che cercano di raggiungere lo stesso obiettivo grazie grazie grazie